Va ora in onda, pianeta oggi e venti nel mondo. Conduce in studio Massimo Bonella. In onda tutti i giovedì dalle 20 e 30 su Radio Piper. Grazie a tutti i giovedì dalle 20 e 30 su Radio Piper. Ai microfoni o meglio sarebbe il caso di dire al telefono Massimo Bonella, direttore di Pianeta Oggi TV, che è proprio da questa testata che mi sentite per dei problemi a carattere tecnico. A Radio Piper Fontana Fredda abbiamo sempre il nostro collaboratore fisso Alviano Appi, che tra breve darò subito la linea per la conduzione di Pianeta Oggi e venti nel mondo. Tanto vi ricordo che questa è Radio Piper Fontana Fredda, che modula dall'80, dal 1980, una storica emittente del Friuli Venezia Giulia, che trasmette sui 93.8, 88, 800 megars in stereofonia, in tutto l'alto abriatico. Viene ascoltata anche in Istre e anche più in Lace, che ci ascolta anche a Ljubljana. Salutiamo tutti questi ascoltatori anche dalla vicina Slovenia. Dunque ricordo i siti internet dove noi prendiamo spunto con le nostre trasmissioni, vale a dire il sicomoro.com da Pordenone, poi a seguire Antimafia 2000 da Palermo, ricordo sempre 2000 scritto in lettere. Poi abbiamo anche la Funima International Onus, che è un'associazione che ha il compito di recuperare i bambini dalla strada. Il sito internet, per maggiori informazioni e approfondimenti, è funimainternational.org. Ecco, come avete capito, questi siti rispecchiano quella che è la nostra linea editoriale, perché noi diamo spazio a tutte quelle persone che lavorano a favore per la difesa, per la tutela della vita del nostro pianeta. Dunque, io a questo punto cedo subito la linea allo studio di Fontana Fredda, dove dicevo abbiamo pronto ai microfoni Alviano Appi, col suo ospite, che ce lo presenterà, un ospite molto importante, quindi vi invito a fare molta attenzione, ad ascoltare bene questa trasmissione, ci saranno delle riflessioni molto importanti. Dunque, Alviano, a te la parola per la conduzione, noi ci sentiamo al termine. Vai Alviano. Grazie Massimo, hai fatto bene a dire ai radioascoltatori che abbiamo veramente un ospite particolare, molto importante, si tratta di Pier Giorgio Caria, un ricercatore, un documentarista, in particolare sul tema della presenza extraterrestre. Pier Giorgio è autore di documentari che hanno trovato spazio sulle reti RAI, Mediaset, ed è anche vincitore di premi internazionali. Questa è una brevissima presentazione per far capire a voi che ci ascoltate che le informazioni che Pier ci darà sono frutto di una ricerca molto seria e approfondita. Caro Pier, intanto grazie della tua disponibilità, trattiamo un argomento che sicuramente non potrà essere affrontato in tutti gli aspetti che esso offre, ma speriamo di avere anche altre opportunità appunto per approfondire. E la prima domanda che ti faccio, in modo che chi ci ascolta abbia un po' modo di capire. Questo fenomeno extraterrestre, dal materiale, dalle testimonianze che tu hai raccolto, ha delle basi solide oppure si tratta fondamentalmente di fantasia, giochi di luce, scherzi di burloni, fenomeni costruiti in modo digitale e niente di più. Che cosa ci puoi dire? Tanto un saluto a te Alviano, un saluto a tutti coloro che stanno ascoltando questo programma, vi ringrazio di avermi invitato, è sempre un piacere parlare con voi, parlare con le persone, saluto Rosario Moreno, saluto Massimo Bonella, carissimi amici oltre che collaboratori. Bene, guarda Alviano, quest'anno ho partecipato abbastanza di recente al simposio internazionale sugli oggetti volanti non identificati a San Marino, tra i vari ospiti c'era un importantissimo ricercatore americano che praticamente assieme a Stephen Greer sta cercando di spingere, non assieme nel senso che collaborano insieme, ma nel senso che porta avanti un discorso sulla disclosure, sulla rivelazione della verità sulla presenza extraterrestre occultata dai governi, quindi svolgendo pressioni a livello del congresso degli Stati Uniti, svolgendo attività di sensibilizzazione politica attraverso la partecipazione di importantissimi testimoni che sono astronauti, militari e testimoni stessi del fenomeno e alla fine del congresso il ricercatore ha detto, beh signori dopo quasi 70 anni di ufologia con l'enorme quantità di prove che oggi esistono, credo che sia giunto il momento che noi la smettiamo di parlare di UFO e incominciamo a parlare di extraterrestri, perché il fenomeno UFO sottende esattamente questa situazione qui, cioè che siamo visitati da civiltà provenienti da altri mondi, quindi faccio mia le affermazioni di questo importantissimo ricercatore, chiedo scusa a un lapsus, non mi viene il nome, mi verrà poi lo dirò e quindi faccio mie le sue affermazioni perché vengono da un contesto autorevole, vengono da un personaggio che ha raggiunto il livello di poter pressionare a livello di Casa Bianca, quindi di presidenza americana, lui è molto attivo in questo momento, spera che la Clinton, così come ha promesso in campagna elettorale, possa rivelare ciò che i governi nascondono. Ora vorrei fare anche un'analisi, un attimo delle importanti affermazioni di questa politica americana che tutto il mondo conosce bene, lei appunto questa notizia delle sue affermazioni è uscita un po' in tutto il mondo, perché quando personaggi importanti del mondo della scienza o della politica o militari fanno affermazioni sugli oggetti volanti, la cosa ha subito un risalto mediatico a livello mondiale e la Clinton appunto dice se sarò eletta rivelerò la verità sugli oggetti volanti non identificati e poi aggiunge un'altra frase ancora più importante, dice secondo me noi abbiamo già avuto contatti con esseri provenienti da altri mondi. La domanda al piano, la riflessione che io faccio è ma scusate, ma la verità che tutti strombazzano ai 420 non è che gli extraterrestri e gli UFO non esistono? Quindi qual è la verità che deve essere rivelata? Perché secondo le fonti ufficiali la verità è già stata detta, non esistono, sono fesserie, sono cose per gente che ha tempo da perdere, quindi se la verità è questa, però la Clinton dice che la verità deve essere ancora rivelata, allora vuole dire che questa verità non è la verità, ma è una menzogna, giusto? Credo che sia corretto il filo logico che seguo nella mia riflessione, quindi c'è una verità che non è quella che è stata fino a oggi data in pasto alle masse che beottamente, stupidamente l'hanno fatta propria, addirittura difendendola senza avere nessuna base di investigazione o di preparazione in merito, solo perché l'ha detto mamma TV, allora questo è verità, ma se la Clinton appunto ci dice che lei dirà la verità sugli UFO, evidentemente la verità sugli UFO ancora non è stata detta e quindi quello che tutto il mondo pensa che sia vero in realtà è una grande menzogna. Ecco, allora a me viene in mente Pier che anche l'anno scorso un noto giornalista americano Robert Hastings ha messo insieme un considerevole numero di ex membri dell'aviazione americana riuniti anche alla presenza di CNN, i quali hanno dato a testimonianza proprio di questi oggetti che disattivavano addirittura le testate atomiche e mi sembra che fossero più di un centinaio, naturalmente in pensione evidentemente perché evidentemente c'è ancora un cover up su questo tema. Sì, Robert Hastings è attivo già da molti anni, lui ha scritto un importantissimo tomo, veramente un tomo il suo libro e si chiama Gli UFO e il nucleare. Gli UFO e il nucleare raccoglie in questo libro, il professor Hastings raccoglie il frutto delle sue ricerche, delle prove che lui ha raccolto su queste ricerche che dimostrano inoppugnabilmente che da decenni l'aviazione extraterrestre esegue degli interventi mirati sui siti militari nucleari, nel senso di disattivazione delle testate atomiche, nel senso di disattivazione di intere basi c'è un caso famosissimo che è accaduto addirittura nel 1967, quando la base di Malmstrom nel Montana fu totalmente disattivata dalla presenza di oggetti volanti non identificati. Esiste un libro che io possiedo che si chiama Il gigante è caduto, quindi questa aviazione è attiva nel nostro pianeta, esegue degli interventi per limitare o addirittura bloccare l'uso del nucleare in campo militare. Sappiamo anche, abbiamo anche le prove che sono intervenuti in ambito di gravi disastri, cito Chernobyl e cito Fukushima, per limitare i danni della nostra follia di usare un'energia così mortale per produrre energia elettrica quando ci sono fonti assolutamente pulite che potrebbero essere usate. Pochi giorni fa ho visto sul canale di Giulietto Chiesa, c'è un signore di San Marino che ha brevetato un sistema per produrre energia elettrica a gratis usando semplicemente la pressione atmosferica e l'acqua, quindi senza bruciare niente, senza inquinare niente, ma lo stesso ricercatore diceva vediamo se riuscirò questa scoperta a metterla in giro perché gli interessi in gioco sono ovviamente giganteschi. Quindi ci sono assolutamente le prove in tutti i settori della scienza, militari, politici che noi siamo visitati da esseri provenienti da altri mondi, l'intero pianeta è sorvolato dall'aviazione extraterrestre, semplicemente non siamo ancora nella fase del grande contatto, non si sono appalesati pubblicamente, quindi la percezione dell'umano media è una percezione assolutamente stupida, manipolata che è stata inculcata sibillinamente attraverso i telegiornali, attraverso i media, attraverso Hollywood o anche il paradigma, non esistono, ma se esistono sono cattivi. L'ultimo film che è un vero schifo, le solite buste mostruose che girano l'universo per depredare, per violentare, per conquistare, che Independence Day, il secondo episodio, quindi sono manipolazioni che partono dai piani alti del potere per impedire alle masse di prendere consapevolezza di questa fantastica e meravigliosa realtà che se conosciuta da tutto il mondo potrebbe sicuramente cambiare il destino dell'umanità dalla sera alla mattina. Ecco, allora guarda, prima di farti forse la domanda più importante che certamente c'è nella testa… Scusami Aldiano, dimenticavo, volevo puntualizzare i personaggi con cui Hastings ha incontrato i giornalisti nell'importantissima e prestigiosa sala delle conferenze stampe a Washington, erano tutti ex militari NATO, inglesi e americani. Tutta gente ha testimoniato, quelli che Hastings ha raccolto erano oltre 100 testimoni e tutti hanno avuto esperienze dirette di avvistamenti in ambito del militare nucleare, di interventi di questa avviazione, quindi siamo ai massimi livelli dell'autorevolezza e tra l'altro non solo questi personaggi, questi ex militari hanno testimoniato le loro dirette esperienze, ma hanno portato un utrito numero di documenti militari di cui alcuni io li ho visionati, dove si parla chiaramente di dischi volanti e di sfere di luce, quindi siamo nel pieno di tutta quella che è la casistica ufologica conosciuta. Grazie, guarda mi fai venire in mente che Gordon Cooper che è stato il primo astronauta americano praticamente ad uscire dall'atmosfera e mi sembra, non so se ha fatto tre circonnavigazioni o per tre giorni ha circonnavigato il pianeta, quando è ritornato mi ricordo che comunque lui ha scritto una lettera all'ONU nel quale l'umanità avrebbe dovuto attendersi di prepararsi per ricevere una visita di esseri, si capiva da quello che diceva lui, lui intuiva veramente molto e voluti, ma anche in senso spirituale perché lui diceva che noi avremmo dovuto crescere eticamente per poterli accogliere in modo adeguato. Sì, questa lettera fu fatta da Cooper, dopo che già lui aveva testimoniato in vari ambiti di aver avuto esperienze dirette con questi mezzi, fu fatta perché nel 78 ci fu il tentativo, fu un'iniziativa del piccolissimo Stato dell'isola di Granada, di istituire una commissione ONU di indagine sugli UFO, ricordando anche che il segretario precedente Utant disse che all'epoca uno dei maggiori problemi a livello mondiale erano proprio il tema degli UFO, cioè problemi nel senso che bisognava investigare seriamente per giungere definitivamente alla verità sulla realtà di questa presenza e quindi Gordon Cooper fece parte di una commissione di esperti tra i quali c'era anche il famosissimo astronomo John Allen Hynek, che fu quello che inventò i vari livelli di contatto, primo, secondo, terzo, quarto tipo, poi ricordiamo il celebre film di Steven Spielberg, incontri ravvicinati del terzo tipo, Allen Hynek inizialmente scettico, era la maggiore autorità mondiale all'epoca nel campo dell'astronomia, era uno scienziato che pensava che fossero tutte bufale, quindi illusioni, allucinazioni, fenomeni naturali, invece investigando seriamente il problema poi si rese conto che non era assolutamente così, che la presenza era reale, che c'erano le prove e soprattutto che i servizi segreti erano ben attivi per occultare all'intera società e manipolare questa verità. c'era il famoso ricercatore di origini francesi Jacques Vallée, insomma un'equipe importantissima, il segretario generale all'epoca era Kurt Valdheim e cosa succede al piano? Viene presentata la richiesta, viene preparata tutta la documentazione per l'istituzione di questa commissione e appena tre mesi dopo la CIA organizza un colpo di Stato a Grenada e destituisce tutto il governo dell'isola e per cui da allora questa richiesta giace lì in attiva all'ONU e non è mai stata più ripresa in mano da nessuna nazione perché tutti hanno capito che toccare quel tema vuol dire fare la fine che ha fatto Sir Eric Gehry che era il primo ministro di Grenada e del suo governo, fare quella fine lì. Quel tema non deve essere toccato a livello di alti consessi politici, pena la disintegrazione. Guarda, io mi ricordavo questa presa di potere degli Stati Uniti sull'isola di Grenada, non avrei mai immaginato che dietro questa cosa di questo piccolo isolotto ci potesse essere questa notizia che tu ci stai dando in questo momento. Ci sono tante cose al piano che purtroppo il pubblico non conosce, mi sono ricordato il nome del ricercatore Steven Bassett che tra l'altro ho anche lungamente intervistato, quindi ho un'ottima intervista su questo personaggio importantissimo che ripetisco, Steven Bassett e Steven Greer in America sono tra i ricercatori più attivi per pressionare il governo americano a tirare fuori le prove che loro nascondono da ben, almeno dal 1942. Poi se vuoi Alviano ti posso raccontare perché questa data che quasi nessuno conosce e tutti pensano che l'ufologia nasca nel 1947 un po' con l'avvistamento di Kenneth Arnold e un po' con l'episodio del recupero di un disco volante a Roswell, in realtà sono emersi altri documenti sempre da fonte americana che dimostrano che gli americani hanno in mano dischi volanti addirittura dai primissimi anni 40, quindi ancora prima che nascesse l'ufologia. Allora, questo lo teniamo magari come tema di approfondimento per un'altra volta che spero avremo modo di risentirci e ti volevo chiedere, tu hai fatto riferimento a questo film uscito da poco, Independence Day, secondo episodio, con questo c'è tantissima disinformazione in internet, l'informazione ufficiale è disinformazione di fatto su questo tema, allora per aiutare chi ci ascolta, a prendere temi, a prendere fonti veramente fondanti, importanti e serie, che consiglio daresti tu? E dopo ti faccio una domanda molto importante. Tu dici fonti informative? Sì, perché se mi voglio fare un'idea veramente buona, senza navigare un po' dappertutto dove vedo cose che mi fanno pensare, ma proprio disinformazione secondo me, che dritte daresti tu a chi vuole approfondire? Ma guarda, se vogliamo parlare prettamente di ufologia, viti e bulloni, c'è il dottor Roberto Pinotti, segretario nazionale del centro ufologico nazionale, che ha scritto oltre 30 libri sul tema, straricchi di informazioni, di avvistamenti, di incontri di ogni genere e tipo. Se volete ascoltarvi delle conferenze sul mio canale YouTube PierGiorgio Caria 59, ci sono tante conferenze dove faccio vedere vari aspetti delle prove esistenti. Se volete comprendere la natura di questa visita, quindi perché sono qui, chi sono, cosa vogliono, potete leggervi i libri di Giorgio Adamski, potete leggere il materiale esistente su internet sul mio padre spirituale Eugenio Siragusa, potete leggere, se mi scrivete, una mail a info, piergiorgio caria.it, vi mando 18 libri dove ci sono importantissime comunicazioni da parte di questi esseri, sono messaggi assolutamente veritieri, che ho avuto modo di comprovare come reali, che spiegano essi stessi, gli extraterrestri, chi sono, perché vengono e cosa vogliono. Tra l'altro ci sono anche delle informazioni tecniche sui loro mezzi volanti. Questi 18 libri sono una buona base per formarsi una chiara panoramica della realtà e del perché questi esseri sono qui, del perché si comportano in questo modo per noi incomprensibile e del progetto che loro hanno posto in essere ormai da quasi 70 anni, che ancora non è giunto al suo termine. Comunque negli ultimi anni, soprattutto a partire dal 1992, è scattata l'ultima fase del loro progetto di contatto pubblico. Quindi siamo dentro un ciclo, siamo dentro una dinamica, un processo che deve portare nell'arco, secondo me, di pochi anni a venire, al grande contatto con tutta l'umanità della Terra. Quindi ci sono dei termini, ci sono degli obiettivi che questi esseri hanno e si mostreranno solo quando questi obiettivi li avranno raggiunti. Quindi è la loro logica, non è la nostra logica. Purtroppo noi esseri umani terrestri siamo molto arroganti, molto presuntuosi e purtroppo anche immensamente stupidi e quindi ci poniamo sempre come punto di riferimento nell'analisi di una realtà di cui di fatto disconosciamo tutto e che è lontanissima da noi in termini di evoluzione. Sono esseri che hanno migliaia o milioni di anni di evoluzione e più di noi. Quindi noi siamo dei trogloditi, siamo dei cavernicoli tecnologici che si stanno confrontando con una realtà inimmaginabile. E stupidamente vogliamo metterci noi a termine di paragone quando noi nel cosmo ancora il naso non l'abbiamo messo. Ecco, guarda, con le indicazioni che hai dato adesso mi hai aperto un po' comunque la porta all'ultima domanda. Noi abbiamo ancora un 5 minuti e se tu puoi dire a chi ci sta ascoltando in questo momento uno può comunque pensare bene, allora esistono degli extraterrestri, ma a noi, a noi di questa visita extraterrestre, con i problemi che abbiamo, ma che cosa ce ne viene? Qual è il significato? Allora c'è un significato della presenza di questi esseri? Certo. C'è un'utilità nella nostra vita in qualche modo, indirettamente, ma anche se in diretta importante. Cosa ci puoi dire nel breve tempo che ci resta? Assolutamente sì, Alviano. Volevo aggiungere ai dati che mi avevi chiesto prima un altro importantissimo bacino di informazioni, è il sito di Giorgio Bongiovanni www.giorgiobongiovanni.it dove c'è un grandissimo numero di messaggi dai fratelli extraterrestri, soprattutto inerenti alla situazione mondiale attuale e a quella nel breve prossimo futuro. Quindi è un'altra fonte di informazione straordinaria per comprendere la natura e il perché di questa visita. L'importanza per noi qual è, Alviano? Che questi esseri sono qui per noi, non sono qui per loro. La loro missione non è diretta a un loro scopo in termini di necessità che gli extraterrestri hanno rispetto a noi. Loro sono qui per darci una mano, per dare una mano a noi terrestri e per aiutarci, se noi lo vogliamo, uscire dalla gravissima situazione autodistruttiva molto avanzata nella quale ci troviamo, mentre beottamente e in modo ignaro l'umanità non si rende conto del gravissimo pericolo che stiamo occorrendo. Quindi sono qui per darci una mano, per aiutarci. Purtroppo noi rigettiamo, rifiutiamo, denigriamo e quindi questo aiuto purtroppo non può essere imposto, può essere solo accettato consapevolmente. Quindi questi esseri sono qui per cambiare il nostro destino in meglio, sono qui per fare del pianeta Terra di nuovo un pianeta pulito, sono qui per abbattere tutti quei regimi e quei sistemi di potere che ci opprimono, quello bancario, quello della big pharma, quello della corruzione politica, quello militare etc. Quello militare che tra l'altro in questo momento è in una deriva pericolosissima, perché essendo fallito il tentativo di far diventare il terrorismo internazionale occultamente finanziato dalla stessa Nato, di farlo diventare il grande nemico pubblico numero uno, adesso hanno deciso che il grande nemico pubblico numero uno deve essere la Russia. Perché questo? Perché per mantenere i folli budget militari della Nato e quindi gli enormi profitti dell'industria bellica è necessario un nemico, quindi si sono inventati questi delinquenti che il nemico è la Russia, quando la Russia non è assolutamente il nemico, però questi folli stanno spingendo per provocare la Russia che assieme agli Stati Uniti d'America è lo Stato più armato del mondo a livello nucleare, quindi siamo in una situazione assurdamente pericolosa, portata avanti da un manipolo di pazzi di altro livello che stanno spingendo l'umanità sull'orlo di un baratro nucleare il cui epilogo possiamo immaginare quale sia. Questi esseri sono attivi anche in tal senso, so che controllano tutte le installazioni nucleari, però non possono intervenire prima, loro interverebbero solo dopo che l'eventuale guerra nucleare si scatenerebbe, questo comunque comporterebbe una gravissima sofferenza e una gravissima distruzione per l'umanità. Io spero che l'umanità si svegli, si renda conto della manipolazione alla quale è sottoposta, del grandissimo inganno che ci ha ridotto a dei cretini che camminano per la strada senza sapere né da dove vengono né dove vanno, mentre il mondo sta per andare allo sfacelo più orribile che la storia dell'umanità ricorda. Questi esseri sono qui per aiutarci, quindi accogliamoli, pensiamo con amore nei loro confronti perché sono qui per amore, solo per amore, alla fine al di là. Guarda, io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, spero che anche l'emozione che ricavo sempre io quando ti ascolto sia giunta anche ai molti radioascoltatori che ci possono aver sentito in questo momento perché anche dalla vibrazione della voce, dal timbro, dal suono, dalla fermezza che si ricavano molte informazioni oltre al di là delle cose che vengono dette. Quindi Pier Giorgio, grazie e speriamo di risentirti ancora. Un grande abbraccio da parte di noi qua del Sicomoro, da Porvenone. Grazie a te Alviano, grazie a Massimo, grazie a Moreno, grazie a tutti per avermi permesso una volta di più di testimoniare questa meravigliosa realtà che purtroppo gran parte dell'umanità se la sta facendo sfuggire di mano. Un caro saluto a tutti quanti. Bene, allora ai radioscoltatori di Radio Piper, adesso siamo giunti al termine di questa trasmissione, buonasera a tutti, ripassiamo la linea a Massimo Bonella. Grazie a tutti da Alviano. Grazie dunque ad Alviano Api, riprendo la linea qui dalla testata giornalistica di Pianeta Oggi TV, come ripeto quest'oggi andiamo in onda in questo modo perché ci sono dei problemi tecnici da parte mia, da parte del sottoscritto. Dunque ringrazio in modo particolare il tuo ospite caro Alviano perché veramente c'è dato un'immagine della materia dell'ufologia che veramente fa pensare, ecco è da ringraziare queste persone che hanno la volontà e anche devo dire la preparazione, il coraggio di andare di fronte alle telecamere e spiegare queste cose, di fronte al pubblico nelle conferenze, insomma voglio dire non è che sia una cosa molto semplice, sono persone preparate, io per Giorgio Caria lo conosco da tanti anni, come lui ce ne sono anche altri, ad esempio nel campo della politica estera che spiegano un po' i giochi che ci sono a livello internazionale, potrei fare anche dei nomi, un nome per tutti Giulietto Chiesa con Pandora TV, poi per quanto riguarda le mafie, il problema del cancro mafio in Italia con Giorgio Bongiovani, direttore di Antimafia 2000, questa trasmissione apre degli approfondimenti anche su queste tematiche. Bene, ricordo che siete sintonizzati su Radio Piper Fontana Fredda che modula dal 1980 sui 93.888 per tutto l'alto adriatico con il sistema RDS, non solo l'alto adriatico perché ci ascoltano anche di là del confine di Stato, vale a dire in Slovenia e anche in Croazia, quindi un saluto anche a tutti questi nuovi ascoltatori. Non mi resta che ringraziare le rispettive regie, vale a dire Paolo Gavasso per quanto riguarda Radio Piper e Rosario Moreno per quanto riguarda il network di Radio Science che lo ringrazio doppiamente perché gentilmente ci rimette in onda gratuitamente in tutte e poi anche le altre radio web di taglio locale che vanno da Modena passando per la marca trevigiana, il veneziano con Radio Favrovento Web a seguire Radio Reno Web Emilia Romagna fino ad arrivare in Valdichiana. Dunque, non mi resta che chiudere qui, Pianeta Oggi 20 nel mondo, appuntamento alla prossima settimana da Massimo Bonella. Buonasera, linea adesso alla programmazione. Buonasera, linea adesso alla prossima.